Ciao, sono Andrew e questi sono mia moglie Emma e il piccolo Josh. Si presenta così alle telecamere del Daily Mirror, quest'uomo di un piccolo paese nei pressi di Cambridge, Gran Bretagna. Quello che sembra un felice quadretto familiare nasconde però una storia tormentata iniziata qualche mese fa quando fu comunicato loro che uno dei due gemelli dei quali erano in attesa, la femmina, era priva di una parte del cranio e del cervello. Nonostante ciò i genitori hanno voluto portare avanti la gravidanza. La piccola avrebbe vissuto quanto poteva e una volta nata, Hope, Speranza, così l'hanno chiamata, è rimasta in vita appena 74 minuti, sufficienti comunque a donare i suoi organi, i reni in particolare, che per la loro elasticità possono essere trapiantati anche in un adulto. Siamo qui per dire che la donazione è una cosa molto importante. Può essere dura, lo so, ma è la cosa giusta. In effetti c'è stato un momento che ha fatto vacillare papà Andrew quando Hope è riuscita a toccare il mio dito e a stringerlo un po', ammette. Non è la prima volta che bambini molto piccoli siano capaci di donare qualcosa che vale più di ogni altra come la vita. Solo nel Regno Unito sono stati oltre 40 negli ultimi dieci anni. E proprio da un caso analogo, quello di Teddy, che lo scorso aprile era vissuto appena 100 minuti, ha preso corpo la decisione di mamma Emma. Avevo letto di Teddy sui giornali, racconta, e non mi sarei mai aspettata di trovarmi nella stessa situazione di quei genitori, che avevo reputato così coraggiosi. Oggi la piccola Hope continua a vivere dentro qualcun altro e questo allevia anche il nostro dolore. Oggi la piccola Hope è riuscita a toccare il mio dito.